Vuoi stampare un fotolibro online e hai bisogno di qualche consiglio? Oggi provo per te il servizio di SalDigital e ti mostro come impaginare un fotolibro utilizzando il semplice software che Sal ti metti a disposizione gratuitamente. Alla fine del video ti spiegherò anche come ottenere uno sconto di ben 20 euro per provare questo o altri prodotti dopo la sigla. Ciao sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, tutorial e prove proprio come quella di oggi che alla fine vedrai contiene anche un piccolo tutorial. Se non lo hai già fatto iscriviti al canale e attiva le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video come al solito dai uno sguardo alla descrizione qui sotto. Nei giorni scorsi sono stato contattato da SalDigital che mi ha chiesto di provare alcuni dei loro prodotti per il canale. L'accordo prevede tre cose. La prima è che Sal mi ha fornito gratuitamente questi prodotti quindi io non ho pagato per il contenuto di questa scatola. La seconda è che Sal mette a disposizione un buono di 20 euro per tutti gli utenti del canale, ti do tutti i dettagli alla fine del video. Terzo Sal mi chiede di esprimere la mia opinione su questi prodotti e sul software Sal che serve per crearli. ho scelto due prodotti simili ma abbastanza diversi quindi due foto libri uno abbastanza costoso da oltre 40 euro e un altro molto più economico da circa 13 euro. Ho realizzato un semplice progetto utilizzando le foto del mio viaggio a New York. Se vuoi vedere i video relativi a questo viaggio link nella descrizione e nella card qui sopra. Li ho impaginati di proposito col software Sal design anziché con InDesign proprio per realizzare un prodotto alla portata di tutti. Ho scelto un design abbastanza semplice, ti faccio vedere il software nel dettaglio tra un pochino. Ho fatto il mio ordine lunedì alle 5 e mezzo, il giovedì è arrivato il corriere con questo pacco. Erano previsti 12 giorni per la consegna in realtà è arrivato in tre giorni. Il pacco è arrivato in perfette condizioni con DHL, il packaging mi sembra di ottima qualità ma abbastanza protettivo, simile a quello che utilizza Amazon per questo genere di spedizioni. adesso lo apriamo insieme e vediamo che cosa c'è dentro. Vedi che i due fotolibri sono ulteriormente protetti all'interno di altre buste. Li apriamo entrambi e vediamo come sono fatti. Questo è quello più economico che ti dicevo, piccolino. Togliamo la busta e questo è quello più costoso anche onestamente con più pagine. Senza ancora averli aperti già al tatto ti dico che questo grande è veramente veramente molto bello, la sensazione di ottimi materiali. Io ho scelto la copertina imbottita che ha un costo extra ma effettivamente ha il suo valore adesso che lo vedo. Anche il dorso mi sembra perfettamente realizzato e ben centrato. Questo più economico vedi un pochino di meno, diciamo non è assolutamente perfetto. A questo punto direi di aprirli. l'interno è veramente molto ben realizzato, ho scelto di realizzare molte doppie pagine quindi con la foto tagliata dalla linea di metà della pagina perché una delle caratteristiche dei libri di sal è appunto quella di avere questo formato abbastanza piatto che rende possibile questo genere di impaginazione. Ho utilizzato anche parecchie immagini al vivo. Come primo impatto la qualità di stampa è veramente ottima e la carta ha una consistenza al tatto veramente molto molto gradevole. Vedi che piuttosto che un portfolio ho fatto diciamo un libro delle vacanze. anche questi colori che erano molto brillanti sono ben resi. Anche questi blu sono molto belli. Devo dire sono molto soddisfatto di questo di questo grande. Vediamo questo piccolino. anche questo ha la stessa caratteristica, la stessa impaginazione siccome sono un pochino meno pagine manca qualche foto. Ti dico che la qualità di stampa è sostanzialmente paragonabile, te lo faccio vedere, sia con questo bianco e nero. Guarda anche con con i colori mi sembra assolutamente paragonabile. Ecco questa qua proviamo a confrontarla. Vedi che la costanza di resa è veramente notevole. Cioè non so quanto si riesca a vedere dalla ripresa video ma insomma è veramente molto molto simile direi quasi uguale. è veramente ben resa. Vediamo anche quest'ultima colorata e anche in questo caso diciamo che la resa è praticamente costante io direi praticamente costante sì. Veramente come prima impressione un bel risultato. Adesso li guardiamo un pochino più nel dettaglio. Prendiamo il contafili. Anche anche all'esame con la lente mi sembra assolutamente di ottima qualità. La resa dei dettagli è veramente ottima. Nel complesso sono molto soddisfatto di questo libro che è 19x19 quadrato, una dimensione secondo me tutto sommato comoda sia da lasciare in libreria che da trasportare. si presenta molto molto bene. Certo costa praticamente un euro a pagina e insomma non è non è certo poco ma d'altra parte ha un aspetto veramente veramente professionale. Questo più piccolino soffre un po' la dimensione perché è la foto più grande che puoi stampare è questa e viene 12x24 cm. Il numero di pagine è fisso quindi è questo il suo formato. Peccato per questa imprecisione sul dorso ma d'altra parte la tolleranza è veramente minima quindi magari non è semplicissimo essere precisi con queste tolleranze e a questo prezzo. Certo i materiali sono visibilmente più economici di questo più grande ma la qualità di stampa e la resa delle foto anche stampate così piccoline è oggettivamente notevole. Ora ci spostiamo al computer e ti faccio vedere come funziona il software. Questo è Sal Design, il software che ti fornisce Sal Digital per scegliere e gestire i suoi prodotti. Trovi il link al sito nella descrizione, da lì puoi scaricarlo. Puoi scegliere il prodotto che vuoi, vedi sono vari, per ogni prodotto che scegli ti vengono mostrati i prezzi, le opzioni, tutto quello che devi sapere è abbastanza semplice da usare, non ci perdiamo tempo. Io ti apro il progetto del mio libro di New York per farti vedere alcune caratteristiche salienti di questo software. Qui sulla sinistra vedi ci sono le cartelle dove tu puoi andare a scegliere le tue foto, le puoi ordinare come preferisci, io le ordino per data giustamente in modo tale che me le trovo già in ordine. Dopodiché semplicemente trascini le foto sull'impaginato per cominciare a lavorare. Una, tra virgolette, stranezza per chi è abituato a software professionali è quella di avere le pagine dispari a sinistra, in quanto vedi la copertina ti viene mostrata in questo formato e qui siamo, secondo il software, questa è pagina 1 e questa è pagina 2. Questa cosa, diciamo, può sembrare strana a chi in pagina per professione, semplicemente fregatene. Quella che vedi è sempre la doppia pagina, quindi questa sarebbe la seconda di copertina e questa è la prima pagina del libro. È semplicemente un modo così, un po' fantasioso per indicare le pagine. Qui sulla destra hai questa serie di collegamenti che ti consentono di configurare il tuo prodotto. La prima è questa qui, dove tu appunto puoi scegliere le varie opzioni dell'articolo che hai già selezionato. Qui puoi scegliere gli sfondi da applicare alla pagina, se mai ti piacessero. Lo puoi scegliere tra i colori, i gradienti, insomma una serie di cose. Hai questa serie di clip art che puoi utilizzare per inserirle nel tuo progetto, ma quello che voglio farti vedere è il layout. E qui, diciamo, a me piace la vita semplice. Te lo faccio vedere sulla nuova pagina. Ecco qui. In questo momento è attiva il layout automatico, quindi se io prendo delle immagini e le metto qui dentro, a seconda di quante immagini inserisco, adesso mettiamo delle cose completamente a caso, ottengo dei layout differenti, quindi vedi, potrei scegliere questo e su ogni immagine chiaramente posso intervenire. Per esempio potrei poter fare questo. Ecco qua. Nessuno mi impedisce, ad esempio, di fare così o di fare così e il software riadatta automaticamente le immagini. Io posso disattivare questa modalità e vedi che il software fa una cosa estremamente antipatica che è quella che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Lui continua a dire che siamo su semplice, in realtà non è vero. Se riclicco semplice non funziona. Devo cliccare un'altra cosa, ritornare su semplice, rimpostare questo e a questo punto rifunziona. Questa cosa succede abbastanza spesso quando cambi delle cose. È il principale difetto di questo programma per quanto mi riguarda, ma veramente infastidito e fatto perdere diverso tempo. Per il resto l'uso del software è abbastanza semplice. Ecco, che ne so, se vuoi cambiare l'immagine qua, semplicemente prendi, che ne so, questa e la trascini qui dentro. La vuoi spostare, schiacci questo, ecco qua. Che ne so, qui ci vuoi mettere questa. Puoi chiaramente intervenire come meglio credi, cioè se vuoi questa foto per esempio la puoi rimpicciolire, la puoi, che ne so, spostare qua. La puoi ridurre in quest'altro verso, per dirti perché la vuole rimettere questa qui. Ecco, che ne so, questa la puoi allineare qua. Vedi che il software ti genera un alert perché dice che questa foto l'hai messa troppo vicino al bordo, quindi rischi che il bordo bianco venga tagliato. È un avvertimento diciamo abbastanza utile e che ti aiuta. Vedi che si allineano automaticamente quando trascini i bordi. Insomma, il software è veramente intuitivo da utilizzare per realizzare il fotolibro ed è alla portata di tutti. Se vuoi aggiungere testo hai lo strumento apposito che semplicemente è questo qua. Puoi cambiare fonte, puoi cambiare quello che ti pare. Insomma, se facciamo una cosa orribile di questo genere qua. A questo punto puoi prendere la casella e spostarla per esempio, ecco qua, sopra le nuvole in maniera che si veda. Anzi, qua sotto così si vede meglio. Se schiacci le modalità anteprima ti fa vedere il libro senza le guide, senza altri riferimenti, in maniera che capisci a colpo d'occhio come sta avvenendo. Ti dico, nel complesso è veramente molto molto semplice. Per salvare il progetto schiacci questo tasto. Siccome non voglio modificare il mio progetto di prima, faccio così e ti faccio vedere che cosa succede. che di nuovo qui si è riazzerato tutto e questo dice semplice, ma non è per niente semplice. E adesso hai di nuovo il layout semplice. Un po' un fastidio questa cosa onestamente. Una volta che hai terminato con la progettazione, semplicemente aggiungi il prodotto al carrello. Vedi, il programma genera questo alert per dirti che devi verificare alcuni punti. E ecco qua il punto che dobbiamo verificare. dice che per qualche motivo, non ti so dire quale, sono stati modificati. Ecco qui, li abbiamo controllati e a questo punto lo possiamo aggiungere al carrello. Qua ci richiede conferma di alcuni dei dettagli che avevamo impostato. Ecco qua, siamo pronti. A chi sono adatti questi libri? Questo piccolino forse è di difficile collocazione perché ha un formato particolare, un costo tutto sommato non indifferente perché costa quasi 13 euro. La qualità di stampa è notevole così come la resa delle foto anche a questa dimensione. Però appunto il formato è molto particolare. Diciamo che se sta cercando una cosa fatta esattamente così per un progetto particolare è un prodotto ben realizzato con ottimi materiali e ottima qualità di stampa. nulla a confronto di questo più grande che invece se cerchi una stampa di qualità è veramente un bel prodotto. Ha un prezzo tutto sommato non trascurabile ma equilibrato e adeguato a quello che ricevi indietro. C'è questa caratteristica della doppia pagina che su un formato decentemente ampio come questo ti consente grande libertà di espressione e la possibilità di far vedere le tue foto anche a una dimensione importante specie per il formato chiuso che insomma è non dico attascabile ma comunque lo puoi portare tranquillamente in una borsa. Se stai cercando una stampa di alta qualità questo è senz'altro un ottimo prodotto con un rapporto qualità-prezzo tutto sommato equilibrato. Certo se stai cercando il fotolibro più economico sul mercato questo non è adatto a te. Però ti ripeto, se invece hai delle foto a cui tieni o vuoi stampare il tuo portfolio o un book o qualcosa di comunque importante è un prodotto che rende giustizia a delle belle foto. La buona notizia è che Sal Digital ti mette a disposizione un buono di 20 euro per provare i propri prodotti. Questo buono è valido fino al 15 novembre prossimo ed è utilizzabile su ordini di almeno 39,95 euro quindi circa 40 euro. Devo dirti che con 20 euro di sconto questo fotolibro ha un rapporto qualità-prezzo veramente imbattibile. Per provarlo segui il link nella descrizione per andare sul sito di Sal Digital e ordina quello che desideri e prima di pagare inserisci il coupon SALZAPPO tutto scritto a lettere maiuscole in questo modo ti verranno scontati i 20 euro dal totale. Hai già provato i prodotti di Sal Digital? Cosa ne pensi? Parliamone nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato il video lascia un commento, metti un mi piace condividi il video e iscriviti al canale ma soprattutto non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video